La camola del miele o tarma della cera, galleria melonella, è l'incubo degli apicoltori, la peste delle arnie, un parassita delle api. Non si ciba direttamente di api, ma mangia la cera e diffonde malattie nocive all'interno degli alveari. Ora è stato scoperto, quasi per caso, che oltre che di cera, le larve sono ghiotte anche di plastica, in particolare di polietilene, la plastica utilizzata per le buste, le pellicole alimentari e i tappi delle bottiglie. La scoperta è stata fatta da Federica Bertocchini, biologa che lavora in Spagna all'Istituto di Biomedicina e Biotecnologia della Cantabria. La ricercatrice è anche un'allevatrice di api e lo scorso anno, nel pulire le arnie, si è accorta che erano infestate dalle larve di galleria. Dopo aver pulito gli alveari, ha messo gli insetti in una busta di plastica. Poche ore dopo si è accorta che la busta era piena di buchi e le larve stavano prosperando. Ha subito chiamato un suo amico biochimico, Paolo Bombelli, che, insieme a un collega, Chris Howe, lavora all'Università di Cambridge. I tre hanno studiato i meccanismi di degradazione della plastica, che ha una struttura molecolare simile alla cera, e hanno pubblicato il 24 aprile il loro lavoro sulla prestigiosa rivista Current Biology. La natura, come sempre, arriva in soccorso dell'uomo per risolvere lo spinoso problema dello sbaltimento della plastica. La scoperta, eccezionale, di una biologa italiana può cambiare il mondo.